Noi siamo una famiglia che ispira simpatia e siamo felici perché sappiamo vivere, sappiamo ridere, prendere la vita così com'è. Non importa. Non importa. Non importa. Non importa. Non importa. No, non importa perché vestiamoissimo antimacchia tutti e tre. Sì, una confezioneissimo è una confezione simpatica, elegante, disinvolta per tutta la famiglia ed è antimacchia. Se piove, se nevica, non importa. No, non importa perché vestiamoissimo, simpaticissimo tutti e tre. Confezioniissimo per un inverno felicissimo.